Telefono Il governatore non è propenso a concedere grazie, ma stavolta ha dovuto fare un'eccezione In questo stato bisogna fare molta pulizia Ma bisogna stare attenti a non commettere errori Soprattutto quando in gioco il prestigio dei tutori della legge Capisco Lascia stare, non occorre Sì Ciao fratello Libero Dakota Il nuovo governatore accogliendo la domanda presentata da vostro fratello Ha disposto la revisione del processo Di conseguenza poiché non esistevano a vostro carico prove concrete Cosa detta anche nella sentenza del giulice Etli Ha ordinato la vostra immediata scarcerazione Sceriffo Voi siete un uomo di legge E come tale sapete che a volte il giudizio degli uomini è fallibile Ora siete libero E noi della legge ci aspettiamo che voi continuiate la vostra opera con lo stesso zelo di prima Grazie a tutti